Un saluto dal Tg della mobilità a Corso Trieste sino a venerdì e poi ancora il 24 maggio tra le 7.30 e le 16.30 sono previste potature, previsti divieti di sosta e chiusura al traffico nel tratto di strada tra Via Chiana e Piazza Trento. Dalle 7 alle 17 sono deviate le linee bus 38, 80, 88 e 89. In entrambi i sensi di marcia la deviazione è su Via Chiana, Via Tagliamento e su Viale Regina Margherita. Per ora è tutto appuntamento alla prossima edizione.